Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del notiziario è dedicata alla rivoluzione avvenuta nella giunta messinese all'indomani delle festività natalizie. Il primo cittadino ufficializza la rottura con tre assessori e presenta i nuovi innesti. Vediamo. Una vera rivoluzione nella giunta messinese al comune di Gela. Il sindaco rompe con tre assessori e presenta subito alla stampa i nuovi nomi. Licenziati dunque Pietro Lorefice, Chetti Damante e Nuccio Di Paola. Sentiamo dal sindaco di Gela che cosa lo ha determinato ad assumere queste importanti decisioni. Matura per dare le risposte alla città, per poter trovare quell'armonia all'interno della giunta che serve per raggiungere gli obiettivi. In questi mesi di rodaggio ci siamo resi conto che vi era una separazione netta, non c'è stata la volontà di fondersi in un unico corpo che in modo armonioso potesse camminare per dare quelle risposte che la città ha bisogno. Siccome la città viene prima di ogni cosa, prima di ogni indicazione, davanti a ogni tipo di amicizia, è stato doveroso da parte di questa amministrazione provvedere a sostituire quella parte che non si è adeguata. Questi i nomi dei nuovi innesti in giunta. Francesca Licia Abela avrà delega ai servizi sociali e all'istruzione. Flavio Rocco Di Francesco si occuperà di lavori pubblici e decoro urbano. Angele Eugenio Rosario Catania guiderà l'assessorato competente al controllo del territorio sport ed eventi. Sono tre tecnici che sono in grado sicuramente di poter gestire i vari settori in modo molto più programmatico e quindi per finalmente far partire alcuni settori importanti come i servizi sociali, come lo sport, come la sicurezza del territorio e come lavori pubblici che sicuramente qualche problema in questi giorni ci sono stati. La nostra giunta è una giunta per la città e quindi quando come obiettivo principale c'è la trasparenza, c'è l'onestà verso la città per poter risolvere i problemi in modo serio, questa sicuramente è una giunta pentastellata. A prescindere da quanto tempo una persona è più o meno militante perché non è tanto il fatto di dire di appartenere a un gruppo o un altro ma è importante le azioni che si fanno. Sono le azioni che ci rendono e ci danno quella targa che qualcuno in modo improprio invece ne fa uso e abuso. Siamo alla cronaca, la polizia ha arrestato un pregiudicato per una tentata rapina, le vittime sono dei giovani che stazionavano a Macchitelle ieri sera. In manette Guido Legname, 26 anni, arrestato dalla squadra volante del commissariato. All'una e trenta della notte la polizia è stata chiamata a cercare un ragazzo che si era reso responsabile della sottrazione di denaro e di un telefono cellulare ad un giovane in una via del centro e che successivamente si era dileguato a bordo di un ciclomotore. La polizia lo ha rintracciato poi a Macchitelle, alla vista degli agenti è scappato a piedi ma è stato rintracciato e bloccato dietro ad una siepe. Il presidente del Tribunale di Caltanissetta conclude la sua carriera e dal 1 gennaio prossimo andrà in pensione. Sentiamo. Ancora un altro posto vacante nelle poltrone della magistratura nissena. È il presidente del Tribunale Claudio Dall'Acqua che dal prossimo 1 gennaio 2016 andrà in pensione. Un'esperienza unica e ripetibile, quella di cui parla il magistrato a capo del Tribunale nisseno dal 2008. Ha presieduto i più importanti processi di mafia. In magistratura dalle 1970 fu inizialmente destinato all'apretura di Nicosia per poi essere trasferito a quella di Carini e di Monreale, dove prestò servizio fino al 1981. A Palermo invece nel 1985 fu chiamato a comporre il processo d'appello contro Marcello Dell'Utri. Alla fine del suo percorso giudiziario nell'aulamagna del Palazzo di Giustizia ha raccontato con emozione la sua esperienza alla guida del Tribunale di Caltanissetta. Ha rappresentato un traguardo, un privilegio, ma anche una grossa fatica ovviamente. Il bilancio finale indubbiamente è positivo e lo ritengo raggiunto nel modo più adeguato. Abbiamo cercato di dare il massimo contributo e se ci siamo riusciti lo devo non tanto a mio merito, ma anche alla collaborazione, principalmente alla collaborazione di tutti i colleghi, del personale amministrativo che mi ha seguito e che quindi ha creato un clima di assoluta collaborazione e quindi si sono potuti raggiungere gli obiettivi. Quello di avere in qualche modo risolto in parte l'arretrato, soprattutto nel settore penale, nel settore civile ancora ci sono delle sofferenze, ma sono legate al fatto che il Tribunale di Caltanissetta ha un turnover particolarmente complicato perché ci vengono solo i magistrati di prima nomina che stanno giustamente il minimo possibile e poi appena si legittimano si muovono per le sedi di provenienza. E quindi il Tribunale soffre di questa alternanza e ciclicamente si riduce anche talvolta sino al 50% del proprio organico. Questo naturalmente crea dei problemi, ma nonostante ciò siamo riusciti a raggiungere un traguardo sicuramente soddisfacente. Rispetto ad altri uffici giudiziari abbiamo ottimi risultati. Bando di selezione per tre operatori socioassistenziali di sesso femminile lo ha indetto il primo circolo didattico di Gela diretto da Adriana Quattroocchi. Le domande devono essere presentate entro le 12.30 del 31 dicembre prossimo. Non farà fede il timbro postale per informazioni 0933 90 11 34. Slitta ancora la riapertura della bretella sulla strada statale 640. Non sarà rispettata nemmeno la data del 4 gennaio. A darne notizie il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri, che lo scorso 12 ottobre, assieme ai deputati alla Camera Azzurra Cancelleri e Gianluca Rizzo, dopo il diniego alla visita ispettiva al cantiere tramite vie laterali, allo stesso, avevano potuto appurare il rilento dei lavori annunciando lo slittamento dei tempi di consegna annunciati per il 4 dicembre. Slittamento di cui si era discusso anche in seno a un consiglio comunale straordinario la presenza dei rappresentanti della CMC che avevano garantito la consegna nei tempi previsti. Il deputato Cancelleri intanto presenterà un atto parlamentare ispettivo così da avere risposte per i cittadini. Qualche due giorni fa finalmente il sindaco, dopo che ha utilizzato la CMC come bangomat per eventi folcloristici, per concerti e per altro tipo di situazioni, finalmente si è svegliato, forse perché i soldi della CMC sono finiti, io non so, ipotizzo una cosa del genere, ma è chiaro che finalmente si è svegliato da questo tortore e ha cominciato a denunciare che ci sono clamorosi ritardi, che le opere di compensazione non ci sono. Questa mi pare che era una cosa ovvia e che da tanto tempo stavamo denunciando, perché opere di compensazione a Caltainstetta si sono risolte semplicemente nell'apertura di qualche cantiere per fare qualche villetta e nella possibilità di mettere in sicurezza delle discariche, che sono lavori che a tutt'oggi non sono neanche cominciati o sono cominciati in parte, ma non sono lavori che erano importanti per la città, quando invece delle opere stradali che non sono neanche proprio al vaglio di qualunque tipo di progettazione. Oggi ci ritroviamo di fronte a una strada che ancora non sappiamo più quando apre, noi abbiamo avuto delle interlocuzioni con alcuni vertici dell'ANES che ci hanno detto che loro non si sentono minimamente pronti a poter dare una data sull'apertura, quindi non solo in ditta quella di gennaio, ma non c'è neanche una data prossima, ma forse probabilmente è anche meglio così, perché è inutile più dare delle cose. Ora l'interlocuzione col Prefetto finalmente, perché il Prefetto è quella figura giusta per mettere in campo un'azione che deve essere quella di tutela, di un diritto ai cittadini e di avere una viabilità più serena e più sicura. Ricordo che dall'altra parte la strada che passa dalla nostra zona industriale è percorsa giornalmente da Medi di Tesanti e c'è un traffico molto intenso durante la settimana e anche durante il fine settimana. Questo sta causando ritardi e causa anche pericolosità nella percorrenza di quella strada. La Federazione Ginnastica d'Italia ha convocato nella città di Pesaro tutti i direttori tecnici regionali e i referenti di giuria, uno per ogni regione, per dare le ultime indicazioni sugli ultimi aggiornamenti nazionali. Tra i convocati il direttore tecnico per la regione siciliana, il gelese Walter Micciche. Il corso sarà tenuto dalla direttrice nazionale Emiliana Polini e da Pietro Natalicchio. Presiderà il consigliere nazionale Fabio Gaggioli. La Casa del Volontariato ospiterà per la prima volta uno spettacolo teatrale per bambini e lo farà in collaborazione con professionisti del teatro per l'infanzia. Ansel Gretel e il segreto della strega sarà rappresentato oggi alle 17.30 presso la Casa del Volontariato di Gela. L'obiettivo è quello di offrire occasioni educative di alto livello per i bambini e le loro famiglie. Il progetto teatrale è di Nave Argo. Lo spettacolo, realizzato utilizzando le tecniche del teatro d'attore, unite ad un originale uso delle musiche e di alcuni elementi del teatro di figura, propone una divertente riflessione sulle dinamiche relazionali tra fratelli e il rapporto con le persone anziane. In scena Emiliano Longo e Ridiana Petrone, è anche autrice dei testi e regista dello spettacolo. Le musiche originali sono di Giuseppe Nicolosi e le scene di Tiziana Rapisarda. Seconda mostra dei presepi. Presepi in comune, realizzata dalle scuole locali e promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. Potrà essere visitata a Palazzo di Città fino al 6 gennaio. Previsti intrattenimento e degustazioni. L'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. La cerimonia di chiusura dell'evento è prevista per mercoledì 6 gennaio alle ore 17.30. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Misericordia. Lo ha annunciato il Vescovo Monsignor Rosario Gisana a Gela il 6 gennaio presso la Piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Continuano gli appuntamenti col Grande Giazza al Teatro Comunale Eschilo di Gela venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20. Per informazioni 0 933 911 892 oppure 345 58 80 580. Stagione teatrale di Cavarei 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino. In chiusura della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10, ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà il vice sindaco di Gela Simone Siciliano. Le repliche sono previste alla mezzanotte e la domenica successiva alle 18.00. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare. Lo comunicano i padri agostiniani. Ho fatto delle foto, ho fotografato invece di parlare, ho fotografato per non dimenticare, per non smettere di guardare. Questa è la frase che accompagna uno dei 64 scatti di Giovanni Di Lorenzo. Il medico chirurgo, ideatore e creatore della mostra, ha una foto per la vita. I like, lo specchio dell'anima, in esposizione nelle sale di un noto centro commerciale in Issenu. Paesaggi siciliani, volti di uomini, donne e bambini sono i momenti di vita immortalati dal medico Issenu dove tra il bianco e nero e i colori delle pellicole intende lanciare un chiaro messaggio di lotta e sensibilizzazione contro i tumori. I miei scatti vogliono raccontarci la Sicilia, la Sicilia vista con i miei occhi e regalare un sorriso fondamentalmente a tutti coloro i quali vogliono aderire ad un'iniziativa del genere il cui eventuale ricavato verrà dato alla Lega Italiana lotta contro i tumori della provincia di Caltanissetta ed è un modo come un altro per avvicinare l'arte alla prevenzione. Lo scatto a cui sono più affezionato è quello che ho deciso di mettere in vetrina, rappresenta l'inverno ed è uno scatto del mio paese, uno scatto a cui tengo tantissimo, un paesaggio con la neve. Arte e prevenzione dunque si intrecciano tra le foto, le frasi, accompagnate dalle poesie di Michele Albano una vera e propria sfida lanciata dalla Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Abbiamo avuto un evento fortunato, l'evento fortunato è che un chirurgo è anche un artista, è anche un fotografo di valore e che mi ha invitato a patrocinare questo evento che vuole sposare la prevenzione. Una foto per la vita è metafora di prevenzione, così come una fotografia è un fermo immagine di un racconto, allo stesso tempo un momento di prevenzione è il fermo immagine, è un pit stop della corsa della vita. L'arte aiuta la prevenzione in innumerevoli modi, innanzitutto l'arte aiuta l'essere a poter godere anche di altre cose, a produrre endorfine negli organismi e le endorfine sono delle particolari sostanze che oltre a stimolare il buon umore stimolano anche i poteri di difesa del nostro sistema immunitario. Continuano gli appuntamenti musicali del programma Natale 2015 Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela, preseduta dal maestro Crocifisso Ragona. Oggi al convitto Pignatelli alle 19, concerto lirico del trio Micaela d'Alessandro, soprano Francesco Cusumano Tenore e Annalisa Mangano al pianoforte. Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale, mostra di presepi Vita di Gesù di Francesco Bonvissuto. Fino al 10 gennaio, pattinaggio su ghiaccio e venti, mostra di presepi Albero della vita nel piazzare della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale, sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita, presepi artistici. L'associazione SMAF Sport, Musica, Arte e Folklore, preseduta da Gaetano Davide Arizzi, promuove il presepe vivente che sarà allestito all'interno di un circuito di antichi cortili del quartiere Canalazzo. L'appuntamento è previsto per il 6 gennaio prossimo, evento che porta a riscoprire una tradizione secolare come il presepe e valorizzare allo stesso modo luoghi sconosciuti del centro storico, ma con antico fascino. Il presepe, oltre a rappresentare le classiche scene della natività, ricostruirà ambienti e spazi di lavoro che richiamano la tradizione storica del territorio. All'ingresso del presepe all'angolo di Piazza Sant'Agostino, al visitatore verrà chiesto un contributo simbolico di 3 euro, che in parte verrà devoluto in beneficenza alla piccola casa della Divina Misericordia, con il quale avrà diritto anche alla consumazione tra una variegata scelta di prodotti tipici del nostro territorio. L'orario di apertura al pubblico della manifestazione sarà dalle 19 alle 24. Ed è stato allestito nella Piazza San Francesco, il presepe realizzato dalla parrocchia San Francesco d'Assisi con la collaborazione dei giovani del Movimento Giovanile e dal gruppo archeologico d'Italia Triskelion. Il presepe, che è composto da elementi ad altezza uomo di matrice napoletana, potrà essere visitato tutti i giorni fino al 6 gennaio prossimo. Spettacolo teatrale questa sera all'Antidoto di Gela, una commedia brillante interpretata dalla collaudata compagnia gelese Antidoto. Sentiamo. Emanuele, questa sera si gioca a briscola? Si, si gioca a briscola. Intanto auguri di buon Natale. Il buon capodanno lo faremo questa sera al teatro Antidoto con una briscola. E che dire, è una bella commedia. Si parla di una strana coppia e la strana coppia capirete chi siamo. Chi sarà mai. Chi sarà mai. Guglielmo ieri sera stava male. Comunque speriamo bene per questa sera. Qual è la trama, Emanuele? E la trama, ti stavo per dire, è la strana coppia. Uno che è molto pulito, ama le pulizie, l'altro tutto al contrario. E perciò poi sono due che uno è divorziato, uno quasi, poi diventano quasi una coppia. E insomma, non possiamo più dire altro. Certo, sarà una sorpresa. Ma passerà nel tempo a giocare a briscola? Ma insomma, la briscola inizierà e finirà. Poi vedrete come finirà questa partita a briscola. Il testo è scritto da Tiziana, mentre la regia è affidata da Giancorlo Bella. La compagnia siamo noi. Insomma, è un bel gruppo che si è messo insieme a lavorare. Abbiamo iniziato con la briscola e continueremo sicuramente con altri tipi di giochi. Ci sono ancora posti a teatro per questa sera? Sì, sì, sì. Ci sono ancora posti. Già dalle 16 in poi troverete il bottichino aperto. Già la gente è venuta anche ieri sera a comprare e perciò vi invito a vedere, dopo che avete fatto belle mangiate, belle feste, una bella digestione, una bella risata, con noi ci vuole. Perciò vi aspetto stasera alle ore 21.30 a nabbriscola al Cineteatro Antidoto con l'Antidoto. Risate assicurate? Questo è sempre assicurato. Noi lo diciamo sempre. Se la commedia e lo spettacolo non va bene, noi possiamo restituire dopo 365 giorni i soldi. Certamente. Va bene? Ok, tu verrai? Vedremo. Spero di esserci, Emanuele. In bocca al lupo per stasera. E a chi non verrà, la compagnate a trarre l'Antidoto di Gela. Vi auguro a tutti un buon anno. Comunque venite. Ciao. Bene, con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie ancora e buon inizio settimana a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.